Amici di Maria De Filippi Una serata di talento, emozioni e competizione Il palco di Amici è pronto per un'altra elettrizzante puntata il 10 novembre 2024 Gli spettatori possono aspettarsi una serata indimenticabile ricca di talento incredibile Competizione al cardiopalma e colpi di scena inaspettati Dalle mozzafiato coreografie ai potenti brani cantati Gli studenti di Amici metteranno il cuore e l'anima nel dimostrare di avere ciò che serve per realizzare i propri sogni Ospiti speciali illuminano il palco Giordana Angi e Cristiano Malgioglio Amici è rinomato per aver attirato alcuni dei più grandi nomi dello spettacolo italiano E questa settimana non fa eccezione Sono emozionata di essere qui e di condividere il mio ultimo singolo Piano Piano con tutti voi E io Cristiano Malgioglio sono emozionato di esibirmi con Rosa Tormento e di unirmi alla giuria Divertiamoci un po' Giordana Angi, nota per la sua voce soul, e Cristiano Malgioglio, un'icona della musica italiana, saliranno sul palco Le loro esibizioni e i loro spunti promettono di elevare l'episodio Ispirando sia gli studenti che gli spettatori La presenza di questi due stimati artisti promette di elevare l'episodio Infondendo la loro energia unica e le loro preziose intuizioni I giudici? Luci guida sul sentiero verso la celebrità Ogni passo che fanno, ogni parola che dicono È un faro per i concorrenti Nessun episodio di Amici è completo senza gli occhi attenti e la guida inestimabile della stimata giuria La loro esperienza e passione sono palpabili in ogni momento Sono Ermal Meta E sono qui per aiutare questi talentuosi cantanti a trovare la loro voce e a brillare sul palco Ogni nota, ogni melodia è un passo verso il loro sogno Con i miei anni di esperienza sono pronto a offrire alcune critiche approfondite E, naturalmente, un po' di intrattenimento La mia missione è far emergere il meglio di ogni concorrente Sono Veronica Peparini E sono entusiasta di vedere i progressi dei ballerini E di aiutarli ad affinare le loro capacità Ogni movimento, ogni passo è un'opportunità per crescere Ermal Meta, Cristiano Malgioglio e Veronica Peparini Portano la loro esperienza alla giuria La loro dedizione è evidente in ogni giudizio che danno Le loro intuizioni combinate assicurano che ogni performance sia giudicata con equità E con il genuino desiderio di coltivare la prossima generazione di star italiane La loro sinergia crea un ambiente unico e stimolante La loro presenza aggiunge un altro livello di eccitazione e attesa all'episodio Poiché gli studenti si sforzano di impressionare questi titani del settore Ogni esibizione è un momento di magia e speranza Amici si scalda Le classifiche accendono la competizione Il viaggio di amici non è per i deboli di cuore Ogni settimana, gli studenti mettono il cuore e l'anima nelle prove Spingendo i loro limiti per offrire performance straordinarie e impressionare i giudici L'episodio di questa settimana promette di essere un ottovolante di emozioni Poiché verranno rivelate le classifiche sia per la categoria canto che per quella ballo I beniamini dei fan come Angelina, Cricka e Aaron manterranno le loro posizioni al top O emergeranno degli outsider per sfidare il loro dominio La categoria danza è altrettanto agguerrita Con ballerini di talento che si contendono l'approvazione dei giudici Mentre le classifiche vengono svelate, l'atmosfera in studio sarà elettrica Sezione 5 Addì e benvenuti La porta girevole dei talenti di amici Il palco di amici è un paesaggio in continua evoluzione Dove i sogni si realizzano e si infrangono E dove ogni settimana porta la possibilità di nuovi inizi e addii strazianti Per uno studente il viaggio di amici finirà Mentre un viaggio finisce, un altro inizia Un nuovo ballerino si unirà ai ranghi di amici Portando sul palco il suo stile, la sua passione e la sua determinazione unici L'arrivo di Francesca Bosco Una ballerina abile e ambiziosa Promette di aggiungere un altro strato di eccitazione alla competizione La porta girevole dei talenti Fa parte di ciò che rende amici così accattivante Sezione 6 Dagli scambi accesi alle esibizioni straordinarie I momenti più memorabili di amici Amici è più di un semplice talent show È una pentola a pressione di emozioni Dove il talento grezzo si scontra con una feroce competizione E dove ogni episodio è garanzia di momenti indimenticabili Uno degli aspetti più attesi di ogni episodio di Amici È l'interazione tra i giudici Questa settimana tenete d'occhio le potenziali scintille Tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli Mentre si scontrano sui progressi di Luc 3 Uno studente di talento ma forse acerbo sotto l'ala di Cuccarini Tra i drammi sono le esibizioni degli studenti a occupare il centro della scena Gli spettatori possono aspettarsi di essere sbalorditi dal talento grezzo E dalla dedizione in mostra Ogni performance è una testimonianza del duro lavoro E della passione degli studenti L'episodio di questa settimana Includerà anche sfide speciali progettate per mettere alla prova La creatività, la versatilità E la capacità di pensare in piedi degli studenti Queste sfide non solo testano le loro abilità Ma anche la loro resistenza mentale Dagli scambi accesi tra i giudici Ai momenti di pura brillantezza artistica L'episodio del 10 novembre di Amici Promette di essere un otto volante di emozioni Non perdetevi questo viaggio emozionante Sezione 7 Restate sintonizzati L'eccitazione continua Mentre si chiude il sipario su un altro elettrizzante episodio di Amici Una cosa è certa L'eccitazione è tutt'altro che finita Ogni settimana porta nuove sorprese Nuove sfide e momenti indimenticabili Il viaggio di questi talentuosi individui è appena iniziato E gli spettatori possono aspettarsi di assistere alla loro crescita Alle loro lotte e ai loro trionfi nelle settimane a venire Ogni passo che fanno è un passo verso il loro sogno Segnatevi sul calendario l'uscita tanto attesa delle canzoni originali degli studenti Non vorrete perdervi questo evento speciale A mezzanotte di domenica 10 novembre Gli aspiranti amici scateneranno la loro creatività sul mondo Sarà un momento magico Questa è la loro occasione per entrare in contatto con un pubblico più ampio Per mostrare le loro capacità di scrittura di canzoni E per consolidare il loro posto nel cuore degli amanti della musica di tutto il mondo Un'opportunità unica per brillare Chi sarà all'altezza della sfida? Chi crollerà sotto pressione? Sintonizzatevi per scoprirlo Non perdetevi neanche un momento di questa avventura emozionante Sezione 8 Partecipa alla conversazione Condividi la tua passione per amici Amici è più di un semplice programma televisivo È un fenomeno culturale che suscita conversazioni Accende passioni e unisce le persone attraverso il potere della musica e della danza Non limitarti a guardare lo spettacolo Sii parte dell'esperienza Condividi i tuoi pensieri Le tue previsioni E i tuoi momenti preferiti Dell'episodio del 10 novembre sui social media Utilizzando l'hashtag Taetta Amici 2024 Interagisci con altri fan Discuti le decisioni dei giudici E mostra il tuo sostegno ai tuoi concorrenti preferiti Segui il viaggio di Amici Online Dove troverai contenuti esclusivi dietro le quinte Interviste ai concorrenti E aggiornamenti sulle prossime esibizioni e uscite